Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Sono appena tornato dalla Terra Santa, Gerusalemme, Betlemme, ma ne parleremo in un altro spazio, sicuramente venerdì con Non di Solo Pane. Oggi, 18 giugno, volevo condividere con voi un'altra ulteriore tragedia di migranti morti in mare. Avrei voluto registrare questo video proprio qui alla colma di Cesara, davanti al CAS, al centro di accoglienza, dove, abbiamo già parlato tante volte, ci sono un'ottantina di richiedenti asilo, ma non me lo sono sentita. Mi sembrava di mancare loro di rispetto. Loro sono arrivati qui da più di un anno, da Lampedusa. Loro sono vivi. Tanti di loro, compagni di viaggio, sono morti. Anche in questi giorni è proprio Monsignor Perego, che è il responsabile della CEI per i migranti, ha detto che il diritto d'asilo in Europa e in Italia continua a navigare insicuro sulle nave di trafficanti, anziché essere tutelato da un'operazione europea di soccorso in mare. La vergogna, è sempre il vescovo Perego, la vergogna del cimitero del Mediterraneo si spera abbia una diversa attenzione dal nuovo Parlamento europeo. E mentre si chiudeva il G7 in Puglia, senza una parola sul dramma, di 3.000 migranti morti nel Mediterraneo nel 23. Migranti in fuga, soprattutto Afghanistan e Turchia, vedevano la loro barca affondare nel Marionio. Tra le 66 persone disperse ci sono 26 bambini, perché erano soprattutto famiglie che viaggiavano sul natante. Ecco, allora davanti a queste tragedie forse dobbiamo non fare l'abitudine. Ci vediamo venerdì.